un supplemento ma è lingua vostra Lucia, ma è lingua vostra non lo dico ma è lingua vostra non lo dico allora adesso per ringraziare di questo complimento facciamo anche un altro supplemento qui c'è tutto quello che ho ringrazio anche Samuele e Nicolò e simpolicamente lancio una rosa un saluto per Manuele, Flavia e Lisa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.